Ciao a tutti, grazie per essere venuti qui. Oggi di cosa parleremo? Di Kubernetes, ovvero anatomia di un cluster Kubernetes di produzione. Cosa significa? Significa che andremo a vedere quali sono i pezzi che compongono un cluster di produzione e capiremo come cercare di portarceli a casa, come andare a impostare un'architettura e eventualmente quali possono essere i punti d'attenzione, insomma le cose da cui prestare attenzione nel momento in cui si va a approvvigionare un cluster. Io chi sono? Jacopo Nardiello, sono il fondatore di questa azienda che si chiama SIGAP, noi siamo una startup che si occupa di fare infrastrutture cloud native. Io mi sento con la doppia voce, voi mi sentite bene? Ok, sorry. Allora, noi ci occupiamo appunto di fare infrastrutture cloud native. Che cosa significa? Significa che noi lavoriamo in maniera verticale su Kubernetes. Siamo sul mercato da qualche anno ormai e il nostro mestiere appunto è gestire cluster di produzione e workload di produzione su cloud native, cioè su Kubernetes, scusate. Una delle cose che faccio nel mio tempo libero ovviamente è collaborare con la CNCF. Chi sa cos'è la CNCF? Qualcuno c'è, questo è molto bene. Per chi non lo sa, la CNCF è la Cloud Native Computing Foundation. È uno spin-off della Linux Foundation ed è il cappello neutrale, ok, che si occupa di incubare progetti come Kubernetes stesso. Oltre a Kubernetes, all'interno della CNCF, sono incubati n altri progetti. N altri progetti, Prometheus, ne cito uno, ContainerD, ne cito un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo di decine di progetti, ok? L'obiettivo della CNCF, qui vado avanti, quello lì è mio figlio tra l'altro, scusate, e ci tenevo a sottolinearlo. Insieme a, dicevo, i progetti della CNCF sono decine. Decine che cosa significa? Anzi, qual è lo scopo della CNCF? Perché ci sono decine di progetti incubati, oltre a Kubernetes? Perché lo scopo della CNCF è quello di creare un nexus di collaborazione, vendor-neu, tra altre virgolette, per sviluppare uno stack di riferimento che permetta di eseguire workload distribuiti, fondamentalmente, andando a sfruttare l'orizzontalità dell'infrastruttura cloud. Di conseguenza, all'interno della CNCF, oltre a Kubernetes, ci sono n altri progetti, come dicevo, dalla parte di monitoring, alla parte di login centralizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Perché cito questa cosa? Perché appunto l'obiettivo è quello di avere uno stack completo che permetta di sfruttare al massimo diciamo appunto infrastrutture distribuite completamente agnostico da quelle che sono le offerte dei vendor. Tipicamente questi progetti poi vengono presi, vengono impacchettati dai vendor, vengono poi erogati in maniera supportata, però la base è quasi sempre la stessa, comune e open source. SIGAP, come azienda, questo ci tengo a dirlo, siamo appunto, dicevo, nati da un pochino, siamo membri della CNCF e tra poco ci certificheremo come Kubernetes Certified Service Provided. Questo ve lo cito così. Qual è la nostra missione? La nostra missione è quella di automatizzare tutta l'automatizzabile. Quindi noi lavoriamo e ci impegniamo affinché tendenzialmente aziende, enterprise, più o meno, arrivino a sfruttare al pieno quelli che sono i vantaggi che l'automazione permette di introdurre. Oltre alla parte Kubernetes abbiamo una serie di partnership, questa qui ve la cito perché potrebbe essere interessante, Kong, qualcuno ne ha sentito parlare, API Gateway e Service Mesh, AshiCorp, Volta e Terraform, e Instana per la parte di Application Performance Monitoring. Parto, disclaimer, questo è un tolco opinionato, nel senso che chiaramente quello che viene con tutte le architetture che andremo a mostrare sono una versione opinionata di n possibili opzioni che ci sono. Queste sono semplicemente le scelte che noi abbiamo fatto nel tempo e sono la naturale conseguenza delle cose che abbiamo imparato negli anni. Chi di voi sta iniziando ad usare Kubernetes? Chi di voi usa Kubernetes in produzione? Chi di voi ha iniziato a giocare con i container? I container, tanta gente. Molto bene. Allora, tipicamente quando uno comincia a giocare con Kubernetes, questo è il mood. Ah, figata, fantastico, bellissimo, io inizio Kubernetes, kubectl, apply-f, wow, bellissimo, scala. Perfetto, benissimo. A un certo punto allora uno dice, va bene, fantastico, possiamo effettivamente iniziare a usarlo. Iniziamo a usarlo per fare degli esperimenti o iniziamo a usarlo per deployare roba. Molto presto, ragionevolmente, inizieranno ad emergere problemi, inizierà ad emergere la complessità legata a Kubernetes stesso e al gestire il ciclo di vita di Kubernetes. Sia che utilizziate una versione erogata da un provider, sia che abbiate deciso di portarvi in casa la gestione di Kubernetes stesso. E ragionevolmente dopo sei mesi questa sarà la situazione. Quindi diciamo che la learning curve legata a Kubernetes è abbastanza instabile e varia in maniera significativa nel tempo. Quando io parlo di battle tested, di che cosa sto parlando? Quali sono i componenti core fondamentali di un'infrastruttura di produzione Kubernetes? Parliamo di una parte di infrastrutturale, quindi abbiamo tutta la parte di control plane, etcd e nodi worker, scusate, e abbiamo la parte di h. Questi primi due punti e tutti i relativi sottopunti sono tipicamente quelli che vengono astratti via dai provider. Quando uno decide di utilizzare l'EKS di turno, il GKE di turno, quello che si porta a casa di fatto è una gestione end to end di quella che è il layer infrastrutturale sottostante. Questo è sufficiente per avere un'infrastruttura di produzione? No. No perché? Perché c'è tutta una serie di altra roba che uno comunque in un modo o nell'altro deve andarsi a configurare, ok? E lì iniziano a esserci veramente problemi. Perché? Perché tu oltre ad avere il cluster Kubernetes bear a un certo punto ragionualmente vorrai avere qualche tipo di monitoring, vorrai sapere che cosa sta consumando, come i nodi vengono utilizzati, come i tuoi workload vengono deployati, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta la parte di logging, logging centralizzato, i tuoi applicativi stanno girando, esplodono, se esplodono, perché esplodono? Dove vado a raccogliere i log? Tutta la parte di auditability, per chi lavora in grossi contesti dove ci sono forti vincoli di regulation, tu devi sapere tutto quello che succede all'interno del cluster. Come fai a saperlo? Chi te lo dice? Ok? Disaster recovery, backups, roba vagamente importante, ok? Chiunque fa architetture si trova a dover gestire la parte di disaster recovery ed è abbastanza complessa. Tutta la parte poi abbiamo di 6 CD. 6 CD che cosa significa? Cazzo, sono già passati dieci minuti. Ottimo. Tutta la parte di 6 CD che cosa significa? Che la parte di 6 CD è quella più complicata, o meglio, più sensibile. Perché? Perché da lì passa tutta la tua delivery. Ok? Di solito nessuno ci presta attenzione, nessuno presta particolare attenzione sul tipo di workload che vengono, diciamo, su come è fatta la parte di 6 CD, ma se quella viene compromessa, siete fregati. Ok? Parliamo di architettura. Non voglio, scusatevi devo andare a razzo perché c'è un po' di slide e ci sono un po' di cose che vi voglio dire. Allora, quando parliamo di architettura, questa è l'architettura classica di un cluster Kubernetes. spero che non sia niente di nuovo. Abbiamo una parte di master e control plane e una parte di nodi. La parte di master e control plane ha tre componenti che sono controller manager, API server e scheduler e abbiamo un ITCD. Per la parte di nodi abbiamo N nodi, ok? Con una kubelet e un componente di networking. Cerco di semplificarla. Tutto questo per dirvi che cosa? Che in realtà quando si parla di Kubernetes non si parla di un applicativo che prendi e fai girare. Kubernetes è un nome di marketing per indicare di fatto un sistema distribuito. Un sistema distribuito con un database. Ok? Quindi, gestire Kubernetes e avere un cluster di produzione di Kubernetes significa avere ownership di quella roba lì. E qui c'è il valore dei cloud provider. Ok? O dei vendor. Perché gestire quei tre componenti e gestire un database ok? Non è una cosa semplice. È una cosa che tipicamente bisogna prestare parecchia attenzione e bisogna è un grado di complessità che è lo stesso grado di complessità di gestire un DB qualsiasi. Ok? Quindi, una delle cose a cui dovete prestare attenzione è quel tipo di complessità ve la volete portare in casa? La risposta può essere sì o no sta a voi scegliere l'opzione migliore. Nel nostro caso nel tempo a suon di erogare infrastrutture per i clienti ok? Alla fine siamo arrivati a di fatto svilupparci una nostra mini distribuzione anzi undistribution direi. Perché? Perché di fatto noi prendiamo pacchettizziamo Kubernetes upstream e una serie di altre componenti di cui adesso andiamo a parlare e li eroghiamo diciamo controlliamo le versioni e controlliamo tutto quello che viene deployato quindi le chiamiamo distribuzione ma in realtà si tratta appunto di componenti standard della CNCF. Di che cosa stiamo parlando quando parlo di componenti standard della CNCF? Cosa c'è dentro la nostra distribuzioncina? Parliamo di monitoring parliamo di logging parliamo di ingress e load balancing parliamo di disaster recovery o di CICD che è quello di cui di cui vi ho parlato prima. Questo per me è il minimo per considerare un cluster di produzione. Se non avete alcuni di questi pezzi ok? Il vostro cluster ragionevolmente avrà bisogno di un po' di amore. Mettiamola mettiamola così. Come vi dicevo prima noi utilizziamo solo pezzi standard standard open non ci sono componenti strani non ci sono componenti fuori controllo perché? Perché appunto sono tutti quanti componenti incubati sotto la CNCF. L'unico pezzo che abbiamo sviluppato tra virgolette custom ma è un pezzo abbastanza stupido ok? È un piccolo tool di CLI che abbiamo chiamato FioriCTL ok? E che si occupa di utilizzare il vendoring cioè di anzi di gestire il vendoring quindi come faccio a gestire le dipendenze infrastrutturali? questa è una risposta a cui nessuno diciamo dove non esistono ancora best practice quindi abbiamo fatto il nostro flavor tra virgolette è un piccolo tool di CLI tu lo fai girare lui si scarica le dipendenze. Qual è la nostra reference architecture? Reference architecture abbiamo i nostri nodi worker abbiamo dei nodi dedicati che si occupano di parlare con l'esterno abbiamo dei nodi infrastrutturali su cui adesso andiamo a vedere che cosa gira e abbiamo tutta la parte di control plane sulla parte di control plane vi faccio notare due cose noi dedichiamo dei nodi specifici per i tcd chissà cos'è i tcd scusate i tcd è il db che mantiene internamente lo stato di kubernetes dopo parliamo di che cosa significa mantenere lo stato di kubernetes ok lo vediamo brevemente la parte di control plane invece è quella che prende decisioni quindi è quella dello schedulatore che decide chi deve essere eseguito dove e chi deve fare che cosa fondamentalmente entrambi questi componenti possono essere potenzialmente single point of failure per evitare sta roba ovviamente mettiamo in h sia la parte di control plane che la parte di tcd il tutto dietro a un load balancer questo ocio perché potrebbe essere un punto d'attenzione perché avendo un load balancer di mezzo ed essendo che tutta la comunicazione tra tutti quei componenti ha dei certificati intermedi che diciamo mettono in sicurezza la comunicazione stessa ok il fatto di avere la parte di load balancer va gestita bene cluster life cycle come provisioniamo che cosa anche qui piccola proprio excursus abbiamo la parte di control plane che di fatto istanziamo tramite terraform terraform o cloud formation nel caso in cui uno sia su o.s ok questo nel caso di cloud nel caso in cui siamo chiaramente on prem ognuno è per sé nel senso che dipende chi è il tuo provider per la parte di configurazione dei nodi ovviamente utilizziamo ansible invece per la parte di deployment di tutti i componenti infrastrutturali che girano sui nostri cluster di produzione utilizziamo un tool che si chiama customize sapete cos'è customize elm avete mai sentito parlare di elm bene customize è un tool alternativo a elm ok che recentemente nasce come tool esterno recentemente si è integrato in kubectl quindi ve lo trovate ve lo trovate gratis benissimo partiamo dal monitoring avete mai sentito parlare di prometheus noi utilizziamo prometheus ok prometheus è un sistema open basato sul concetto di exporter quindi la parte di monitoring il time series database con tutti i suoi componenti per fare alerting e per fare diciamo plotting delle dashboard vengono presi e deployati e sono completamente agnostici da quello che poi andranno di fatto a monitorare ricordatevi di andare a deployare loro diciamo che la parte di time series database si aspetta soltanto di trovare un exporter ok per tutti i componenti che dobbiamo andare a monitorare nel nostro caso noi andiamo a monitorare exporter per tutti i componenti per tutti i componenti del nostro cluster l'unica roba due cose che ci tengo a sottolineare noi utilizziamo ad esempio il prometheus operator il prometheus operator ha una caratteristica molto bella che permette di espos anzi di non so come dire di estendere stavo cercando la parola di estendere prometheus andando a prendere quelle che sono tutte diciamo delle metriche standard e vi permette di definire le vostre metriche applicative on top ok come fa a fare sta roba tramite custom resources definition per chi sa che cosa sono le custom resources definition per tutti gli altri sono degli YAML ok dove semplicemente si vanno a mettere le regole di di alerting che si vogliono strumentare per la parte di quando si hanno invece n cluster da dover gestire noi utilizziamo un progetto che si chiama Thanos Thanos ti permette fondamentalmente sia di integrare prometheus la parte di store delle metri che viene spostata su object storage e questa è una cosa molto buona perché non devi gestirti lo storage locale e dall'altra ti permette di strumentare n cluster differenti per chi ha lavori in contesti abbastanza complicati diciamo abbastanza sufficientemente complessi ragionevolmente avrete più di un cluster da dover strumentare l'architettura di prometheus è composta da time series database tutta la parte di web UI oggi c'è solo grafana ok che è il componente di default per plottare roba e poi c'è la parte dell'alert manager che è il componente che si occupa di esporre diciamo di triggerare gli allarmi e notificarvi i problemi per la parte di logging ci sono due strategie fondamentali la prima è che voi scippate i vostri pod con il logging agent di riferimento noi non facciamo così perché noi siamo agnostici rispetto a quello che fanno le infrastrutture che gestiamo quindi cosa facciamo noi andiamo a deployare semplicemente degli agent a livello di nodo e questi agent si ciucciano tutti i log di tutto quello che avviene sui singoli nodi questo ci permette di essere completamente agnostici rispetto a quello che poi effettivamente andranno a fare i nodi stessi per la parte di auditing questa è una parte abbastanza delicata perché spesso viene completamente ignorato ok la parte di auditing può essere configurata solo sull'API server è l'API server che mantiene un audit log ok e che scrive tutti gli eventi che avvengono all'interno del cluster due conseguenze la prima l'audit potete settarlo solo se avete il controllo dei master quindi nel momento in cui andate su un cluster gestito ragionevolmente non avrete il controllo di quello che succede all'interno dell'audit log e non è detto che abbiate accesso all'audit log nel caso in cui invece avete il controllo dei master potete andare a settare il livello di audit che volete sull'API server quindi sulla parte di control plane e sulla parte di TCD a quel punto avete un controllo molto granulare perché Kubernetes è un sistema di eventi ogni cosa che avviene all'interno del cluster è un evento emesso che verrà preso e verrà loggato per la parte di disaster recovery noi utilizziamo un progetto che si chiama project velero adesso è un progetto incubato incubato in vado velocissimo è un progetto incubato in da VMware fondamentalmente prende fa un dump dello stato lo carica su S3 e con lui tutta la parte di persistent volume ingress noi utilizziamo l'enginex ingress controller ovviamente per la parte di supporto cong diciamo che gli ingress standard sono due enginex ingress controller barra haproxy sulla parte di CICD ci tengo a dire una roba quando voi andate a deployare i vostri agent per fare il deployment all'interno del cluster ok avete due scelte se utilizzate helm anzi non avete scelta perché lui ha un componente che gira sui cluster si chiama tiller in questo momento e questo componente ha ruolo cluster admin quindi ha permessi di rutto su tutto il cluster ok questa è una roba che in tantissimi contesti non è accettabile quello che noi facciamo è andare a deployare degli agent specifici per namespace o per project ok e poi andare a fare un hardening puntuale della parte di role based access control su quello che questi agent possono fare quindi cerchiamo di limitare il loro blasting radio tra virgolette quando prima vi parlavo del fury file e di fury ctl per la gestione delle dipendenze questo è quello che noi andiamo a fare di fatto noi andiamo a dire per favore tirami giù la parte di monitoring il node exporter la parte di monitoring kubestate matrix ad esempio dopodiché lancio un comandino lui si tira giù la dipendenza quando parliamo di h di kubernetes dopo di questo questo è l'ultimo è l'ultimo topic parte di h di kubernetes cosa significa fare h su kubernetes questa è una domanda che faccio per voi cosa succede se tolgo i master ho un cluster running cancello via i master cosa succede? cosa? non puoi deployare però tutto continua a funzionare ok? questo ha delle conseguenze il fatto che perdere i master non comprometta il funzionamento dell'infrastruttura fa sì che il concetto di h di kubernetes legato a kubernetes non è l'hca tradizionale in cui tu devi tutelare il funzionamento del servizio per questo motivo spesso si parla la domanda che bisogna porsi è un'altra la domanda che bisogna porsi è qual è il massimo tempo accettabile per la mia organizzazione per cui io non posso andare a deployare cioè posso non andare a deployare roba e quindi si parla di mttr mean time to recovery ok? quindi il fatto di avere più master visto che si porta dentro una discreta quantità di complessità non è detto che sia la scelta migliore ok? perché se ci mettete pochi minuti a recuperare i master perché andate a ricreare la vm banalmente ok? e se quei pochi minuti sono accettabili per la vostra organizzazione in termini di andare a cambiare lo stato dell'infrastruttura allora probabilmente non avete bisogno di più master sulla parte di sempre di H ammesso non concesso che vogliate più master due sono le cose a cui prestare attenzione componenti stateless e la parte di TCD le componenti stateless sono tutta la parte di control plane dell'architettura che vi dicevo prima controller manager scheduler API server l'unico componente stateful è i TCD sui TCD bisogna andare a prendere a salvare lo stato perché TCD contiene lo stato di tutto il cluster sulla parte dei componenti stateless non c'è niente da fare ma soltanto andare a rideployarli va bene stateless components ce lo siamo già detti noi abbiamo sviluppato un mini agent che ti praticamente fa prende dumpa tutto lo stato del cluster tutta la parte di certificate e se ricarica su S3 questi componenti allora tutti i componenti di cui vi ho parlato noi li abbiamo rilasciati open source se andate sul nostro github li trovate sono dei piccolissimi moduletti che potete prendere tirarvi giù e deployare sui vostri cluster ok la configurazione di cui hanno bisogno è veramente minimale ok sono completamente open potete tranquillamente usarli se poi avete bisogno di qualsiasi cosa mi potete tranquillamente pingare tra virgolette grazie grazie a tutti